Sono arrivati ad Assisi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli intorno alle 17.30 dopo 19 km di cammino. Il Movimento 5 Stelle si è rimesso in marcia e due anni dopo è tornato nello stesso tratto tra Perugia e Assisi per il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza per l'Italia, unica speranza, onestà e dignità subito con questo slogan cantando dalla testa del corteo è partita poco dopo le 11.30 la marcia Perugia e Assisi. In circa 1500 con persone provenienti da diverse parti del paese hanno sfilato da Perugia verso Assisi anche al grido di stampa libera. Magliette gialle con chiaro riferimento francescano per i militanti del Movimento 5 Stelle. Sulla maglietta campeggia l'immagine di un lupo e di tre uccelli in movimento seguiti da un uomo e una donna mascherati da ladri. Sullo sfondo un sole e il profilo di una città. Siamo francescani, siamo noi veri francescani, guardate dove siamo e per cosa marciamo, ha detto Grillo, che ha marciato con una fiaccola in mano. Con lui anche Davide Casaleggio che lo affianca nello ruolo di co-leader del Movimento. Sotto una pioggia battente il comico si è intrattenuto con alcuni parlamentari del Movimento, tra cui il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, e si è fatto immortalare nei selfie. Una manifestazione per non continuare con questo sistema, ha detto Beppe Grillo. La ripresa non c'è, il lavoro non c'è, il reddito li permette di stare dentro o fuori la società. Alla marcia ovviamente non sono mancati i consiglieri regionali e i parlamentari umbri del Movimento 5 Stelle. Parlerà tra cinque minuti ragazzi, andate con calma, abbiamo cinque ore ragazzi, parlerà da dieci minuti. Camminiamo però ragazzi, dai. Piedro, pietro, pietro, lascia, lascia, fanno passare. Aspettate. Ma comunque mi pare sia un successo, no? Ragazzi, alzi, mantieni il cordone, allargalo però, non bisogna dare spazio. Riuscite a allargarvi un po'? Guarda, 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 attento Robè che gli fai male, Robè. Passata la cosa, le città. Scusami se ti spiega. No, ma dite scusa, non mi fai fermo. Ma perché sei un buon ragazzo? Ma dai! Ragazzi, non la fa la pazzia. Basta! Ragazzi!